Assolutamente no, sono d'accordo con Nathalie. Quello che purtroppo stiamo vedendo proprio per le difficoltà dei russi di avanzare è sostanzialmente, mi sembra, un ricatto barbarico. Quello che i russi stanno dicendo a Zelensky è a renditi o continuerò a massacrare la popolazione civile. Non c'è un altro modo, perché è del tutto evidente che non si tratta di vittime collaterali, i civili sono stati presi evidentemente di mira in mille modi in questi giorni, in queste settimane e lo sono sempre di più. Il fatto che non si siano aperti i corridoi umanitari nella città che subisce l'assedio più violento che è Mariupol sta dicendo questo, sta ponendo una fortissima pressione politica su Zelensky ed è anche un modo di porre una pressione politica sugli occidentali, perché poi quando ci sarà un tavolo, questo riguarda di trattative più vero, questo riguarderà anche noi e poi penso che sul Corriere l'abbiamo scritto già da una decina di giorni, ma è sempre più evidente con una media di 160.000 persone al giorno che escono, che vanno nell'Unione Europea e che devo dire sono in gran parte nei paesi che non volevano la ridistribuzione dei rifugiati, cioè la Polonia, l'Ungheria principalmente, Putin sta attuando più in grande quello di cui Lukashenko quest'estate aveva fatto le prove generali, cioè l'arma dei profughi come effettivamente un'arma per mettere in difficoltà gli altri paesi. Dunque tutto questo è una grande sfida politica a Zelensky barbarica e credo che alla fine complicherà venire a patti con Putin, perché in realtà Putin si sta tagliando i ponti uno dopo l'altro. E però prima di andare appunto...